si tra l'altro molto a quella è l'anno fuori pista no veramente in compagna ecco come dicevi tu Arturo quando si è inizialmente quando tu vedi un buco come ora si vede il buco nel guadrain vedi un buco per l'anno ecco forse vediamo vediamo guarda guarda ecco Manuele secondo te come è successo qui a parte quello che vediamo cioè direi che è uscita di pista come mai non è riuscita a controllare la macchina la cosa brutta secondo me è che la macchina assolutamente non è stata arrestata dal guadrain